buongiorno amiche eccomi qui in primissimo piano e come direbbe la nostra amica bett pollini benvenute nel mio gabinetto lei dice nel micesso io dico il commento in main body mine man spadezimar lo dico in tedesco allora fra pochissimi minuti devo andare a lavorare mi sono già fatta la base anche se non so se si veda granché adesso vado a procedere velocemente con un trucchino velocissimo trucchino perché fra pochi minuti devo andare a lavorare se vedete questa cosa gialla qui il mio asciugamano perché mi sono fatta la doccia come vedete ancora i capelli bagnati allora dunque mi sono già fatta la base con i soliti prodottini che già vi ho fatto vedere un sacco di volte questo correttore della mebeli anche se le borse guardate che vergogna la maledetta età e cameo della maybelline instant anti age effect ecco fatto poi sono andata a sfumare con questo bel pennellone qui da fondi e adesso appunto procedo con un trucco veloce da lavoro diciamo così mi sono messa anche questi orecchieri dolcissimi questi orecchieri dolcissimi con la tour e i fai oggi è la prima volta che vi posso andiamo a sfumare perché non ho l'effetto ai di le adesso i capelli ce l'ho anche dai di le caprette ti fanno bow ok allora ho dormito quattro ore stanotte perché dovevo correggere i compiti adesso il primar già l'ho messo ma ne vado a mettere ancora un piccolissimo piccolo 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 assaggio perché si era seccato uno e due ecco qua adesso che colori mettiamo qualcosa di abbastanza neutrale un nude quando vado a lavorare devo fare dei trucchi assolutamente la mia palettina preferita eccola ve l'ho fatta vedere anche nel video all about ice scusate c'ho ancora i capelli appunto bagnati ma spesso io vado a lavorare così entro in macchina fuori ci sono quattro gradi io ho maniche corte io non ho mai freddo infatti in estate sto malissimo è la stagione in cui sto veramente malissimo quello centrale con il buco soprattutto questo video è un pretesto per fare un po' di chiacchiere con voi ragazze mie belle vi voglio un bene dell'anima adesso vi ho trovate voi ragazze di youtube voi ragazze di youtube voi col cuore fuori strada allora mettiamo qui sulla palpebra mobile mettiamo il marroncino beh il bel delicato comunque anche perché ripeto no vado a scuola nella mia battaglia quotidiana io la chiamo battaglia perché con questi ragazzi mamma mia ma meno male che ho questo lavoro ancora qui metto il chiaro anche qua sono le 7.23 alle 7.30 devo essere in macchina perché mi separano 35 minuti dalla scuola poi vado a farmi con il colore più scuro questo qui mi vado a fare la V la cosiddetta V e un pochino qua ecco che già questo è il trucco I like it come dovevo farlo anche il video I like it quello di del video di Steffi adesso direi che basta così questo un pochino lo accentuiamo di più frangettino e frangettuna poi la matita metto questa che adoro della Catrice anche un nude eccolo qua me la vado a mettere hop e hop e hop e hop ok sì poi mettiamo il solito lucidalabbra ecco metto questo XXXL Shine della della ragazze Essence ok tutto lo costa tutto lo costa ragazze mia devo andare ancora a fare una capatina dalla Kiko ma mi sa che i prezzi lì saranno esorbitanti per me eh per le mie tasche adesso con questa nuova matita che non ho mai usato della Essence della Love Letter questa nuova vado a mettermi hop qui e qui ecco poi con lo sfumino lo sfumo un po' ok e anche sopra caspiterina ho fatto un bel trucchino per essere per essere a quest'ora della mattina con tre ore di sonno ho fatto proprio un bel trucchino qua li vado un po' a congiungere speriamo che non sia troppo carico per la cosa che devo fare oggi no ecco ho sempre paura di esagerare di esagerare ecco qua me lo sfumo un po' così anche qua nell'angolo con questo sfumino ecco fatto bene ok direi che ok no occhegliata sprecata come diceva mia fuggina quando eravamo ragazzi andavamo a rimorchio al pincio ok un occhegliata sprecata ci si guardava allo specchio poi cantavamo avevamo 13-14 anni ragazzinissime e ci truccavamo per andare a rimorchio e poi si cantava si cantava come matte davanti allo specchio mentre ci si truccava benedetta giovinezza ecco un assumatino ancora Heidi Heidi Klum magari Heidi Klum sto cercando il mio mascara ragazzi è uno dei tanti che ho tanti tanti non ne ho ma adesso non ne trovo nessuno senza mascara non posso uscire sentite come eccolo devo organizzare un po' i miei trucchi ragazzi sono disordinatissima in tutto vergognosa donna una scalzona monella allora ok adesso mettiamo mettiamo un po' di mascara poi vi saluto perché ho una giornata molto piena oggi vi saluto cari amiche oggi una giornata pazzesca di lavoro stressantissima anche perché venerdì abbiamo le riunioni per i voti del quadrimestre chiusura del quadrimestre per le pagelle quindi in questi giorni c'è un bel po' di lavoro da fare va bene adesso avrei dovrei stare mezz'ora qui a mettermi il mascara ma essendo le 7 e 28 mi accontento così face of the day faccia del giorno di questa donna ciao ragazze mi sono messo anche lo smaltino poi voglio fare un video sui miei smalti ciao buona giornata ragazzi vi auguro una giornata bellissima oggi che tutto vada per il meglio per il verso giusto ci si vede al prossimo video ciao